Sono 44.598 le verifiche effettuate su edifici privati dalle squadre di tecnici ed esperti abilitati per le verifiche di agibilità con procedura FAST, fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto attivata dopo il terremoto in centro Italia. In base ai dati aggiornati, al 23 dicembre rende noto il Dipartimento di Protezione Civile e i controlli sono stati 20.699 nelle Marche, 14.182 in Umbria, 8.273 in Abruzzo e 1.699 1.144 nel Lazio. Gli edifici risultati agibili sono complessivamente 20.030, mentre sono 13.290 gli esiti di non utilizzabilità per temporanea, parziale o totale inagibilità, oltre a 1.252 edifici che pur non essendo danneggiati risultano non utilizzabili per solo rischio esterno. A questi si aggiungono 10.026 edifici per i quali le squadre non hanno avuto la possibilità di accedere agli immobili e pertanto sono necessari ulteriori sopralluoghi.